Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Si è riunita in seduta straordinaria la Commissione Lavori Pubblici del Comune di Arezzo per rendicontare tempi e costi per la rotatoria di via Fiorentina. Dall'opposizione è arrivata la richiesta di un consiglio comunale aperto e di una commissione di inchiesta. Giacomo Grazi, eletto sindaco del Comune di Torrita di Siena per il terzo mandato, ha firmato i decreti per la nomina dei componenti della nuova giunta. I quattro assessori sono Alfredo Ardanese, Fabiana Caroni, Roberto Travalsini e Natascia Volpi. Il primo cittadino si occuperà di lavori pubblici, patrimonio, associazionismo, personale e polizia municipale. Si chiama Residence Calcio Mercato, è una serata dedicata al calcio mercato di Lettanti. In programma questa sera a Manciano di Castiglion Fiorentino la organizzano Comune di Castiglion Fiorentino, Residence Serristori e Calcio di Lettanti con il contributo della Banca Popolare di Cortona. Ospite il giornalista Enzo Bucchioni. La serata inizierà alle 18 e dopo l'incontro è in programma un momento conviviale. Queste erano le nostre breaking news.